Considerato il maggiore evento equestre d'Europa per numero di spettatori, il Carnevale Romano giunge alla sua quarta edizione, forte del grande successo di pubblico registrato nel 2011 con un afflusso di circa 600.000 contatti in 11 giorni di manifestazione. Il cuore dell'iniziativa è anche quest'anno l'arte equestre, in omaggio alla tradizione del Carnevale rinascimentale. Al via la quarta edizione del Carnevale Romano, protagonisti anche quest'anno i cavalli, come mai? I cavalli sono nella grande tradizione di Roma e del Carnevale Romano. Basta pensare che la via del corso si chiama via del corso proprio perché si svolgeva la corsa dei cavalli barbari che finiva ogni anno il Carnevale Romano. Da questo dipende gran parte dell'urbanistica del centro di Roma, proprio da questa corsa dei cavalli e da questo grande evento. Abbiamo riportato a Roma, alziché una corsa di cavalli, l'arte equestre, grande tradizione italiana del Cinquecento, pressoché dimenticata e riportata negli ultimi quattro anni. Sono tantissimi gli eventi che allietteranno le giornate dei romani e nonna. L'abituale ambientazione rinascimentale sarà quest'anno ispirata ai viaggi e alle grandi scoperte. Che eventi aspettano i cittadini romani in questi 11 giorni di follia? Tantissimi, sarebbe una cosa lunghissima da dire. Ci sono degli appuntamenti assolutamente imperdibili all'insegnare le grandi tradizioni equestre italiane. Tutto ciò che il cavallo è stato prima di essere sport. Quindi le grandi tradizioni delle campagne laziali con i butteri, le grandi tradizioni militari e le grandi tradizioni dell'arte equestre. Avremo spettacoli pressoché giornalmente e due grandi appuntamenti con gli spettacoli del 12, 16, 18 e 19 febbraio. Inoltre la sfilata inaugurale è dall'11, dove saranno presenti oltre 100 cavalli e 20 carrozzi. Si aspettano altissima arte equestre di livello internazionale, intrattenimento e divertimento per i bambini con i poni e con gli artisti di strada della Commedia dell'Arte. La Commedia dell'Arte con un nuovo spettacolo prodotto dal Teatro di Roma bellissimo che fa rinascere la Commedia dell'Arte che era l'arte degli italiani a Roma finalmente. E poi i giochi di luce e le architetturali su porta del popolo, i giochi di fuochi barocchi, i giochi d'artificio alla fine della festa. Rispetto agli anni scorsi sono aumentati gli eventi, abbiamo messo in rete tutte le nostre strutture culturali, dal Palazzo Braschi ai Musei Capitolini, dalle istituzioni biblioteche alla Sala Santa Rita, a tutte le realtà pubbliche e private, Teatro di Roma in coproduzione, Teatro dell'Opera con il suo balletto, una intera città che dedica dieci giorni a festeggiare il suo carnevale. Uno dei più antichi che abbiamo ricostruito, rimesso in piedi con grande rigore, con grande attenzione anche filologica, abbiamo fatto rivivere i luoghi che arrivavano il carnevale negli anni in cui fu riscoperto, penso a Paolo II e quindi la sua intuizione di spostarlo da Tessaccio a Via del Corso e abbiamo raggiunto la periferia. Anche quest'anno è la grande sfilata del carnevale della Tiburtina, abbiamo iniziato un dialogo intercontinentale perché avremo la bellissima sfilata del Sud America e quindi parliamo un linguaggio nuovo, internazionale, che racconta l'antico in chiave moderna. Quindi un carnevale che punta alla tradizione ma che allo stesso tempo si globalizza. Assolutamente sì, recuperiamo le parti migliori della tradizione del carnevale romano, la valorizziamo, la rendiamo attuale e ne facciamo parlare più lingue confrontandola con i colori, le parole e le riflessioni che vengono da altri paesi del mondo. Il grande carnevale romano prenderà il via all'11 febbraio con una grande sfilata d'apertura in Via del Corso a cui prenderanno parte carrozze, cavalli, figuranti in costume e artisti. Insomma, questa antica festa continua ad affascinare ancora oggi per il divertimento di grandi e piccini. Quest'anno parteciperanno, come l'anno scorso, 35 scuole per oltre 2000 bambini. La volontà è quella di fare appunto dei laboratori. Roma per noi è tutta un'occasione di educazione, quindi verranno fatti dei laboratori a cielo aperto con la costruzione di maschere, verrà spiegata un po' la tradizione del carnevale dal Medioevo fino ad oggi, verranno fatti dei percorsi con i poni, verrà raccontata la storia di Piazza del Popolo. Quindi cercheremo di entrare nel carnevale attraverso un'occasione educativa. Il carnevale non è solo il mascherarsi, ma è appunto una tradizione anche della nostra città e questo cercheremo di raccontare alle scuole.